salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi ragazzi facciamo un test un range test del film x8 questa idea del fare il range test anche con il film x8 che non avevo ancora fatto era l'unico drone con cui non l'avevo ancora fatto mi è venuta da vedendo il video del mio amico Michele di Addict2game che saluto ciao Michele quindi visto che lui l'ha fatto mi ha fatto tenere in mente che con il film x8 non l'avevo ancora fatto ed era l'unico drone con cui non l'avevo ancora fatto e mi ha incuriosito la distanza che ha raggiunto perché per un drone raggiungere una distanza di quel tipo in modalità CE ragazzi tanta tanta roba credo che siano veramente pochi i droni in grado di raggiungere una distanza del genere in modalità CE ovviamente ragazzi è un test quindi lo facciamo in una location dove non c'è pericolo e ci sono praticamente solo campi e dove ho fatto tutti o la maggior parte dei miei range test qui al massimo se il drone dovesse cadere potrebbe al massimo ammazzare una nutria e perché questa è una zona di nutri e che la cosa non farebbe male perché comunque qua le nutrie fanno un sacco di danni e ammazzarne qualcuna non sarebbe una cattiva idea quindi mi raccomando se dovete fare cose del genere fatele solo in zone tipo questa o sul mare comunque in zone veramente dove al massimo quello che può succedere è perdere il vostro drone o distruggere il vostro drone senza fare nessun danno a nessuno questi range test servono solo per andare a capire la potenza di segnale che ha un drone quindi la qualità anche diciamo che se un segnale forte che ne so a un chilometro vuol dire che stando nel regolamento enac avrete un segnale fortissimo quindi un drone super sicuro se invece un drone già perde il segnale a 300 metri vuol dire che anche a 200 avete un segnale debole nel senso che basta qualche interferenza qualcosa e il segnale comunque se ne va già a ming o quindi ragazzi adesso preparo tutto e partiamo con un regno test in queste campagne qui nella bergamasca ok ragazzi andiamo ad un'altezza di 70 metri così da essere sicuri di essere sopra cavi della corrente e dicendo ed anche agli uccelli ok ragazzi adesso destinazione campi nuovo il gimbal così che vediamo che lag ci possono essere che alla fine è anche una dica delle cose che ce lo fa diciamo che ci dà conferma del reale segnale video è proprio il movimento del gimbal se inizia a laggare tantissimo che segnale inizia a essere debole siamo già a 250 metri ormai perché comunque questo drone viaggia veramente tanto a livello di potenza mi stanno mangiando gli insetti che bello quindi vi dicevo ragazzi mi raccomando se fate test di questo genere fateli in zone tipo questa cioè dove proprio praticamente se cade cade in un campo quindi i danni sono solo vostri nel senso che ci smenate il vostro drone in questo caso vedete ragazzi al massimo posso ammazzare come vi dicevo prima una nutria ovviamente ogni tanto velocizzo un po ragazzi perché sennò diventa lunghissima sta cosa siamo a 980 metri siamo già un chilometro ragazzi e il segnale direi che ancora buono e anche il movimento della camera è ancora molto molto buono e siamo a 1100 sta facendo il return to home perché comunque il segnale inizia a essere siamo arrivati a 1190 metri probabilmente a differenza di dove ha fatto il video michele qua ci sono più interferenze quindi la distanza rimane minore ovviamente potevo forzare andare avanti un po di più però al massimo si sarebbe potuto guadagnare credo un 200 metri non di più diciamo che è tantissimo e ragazzi perché comunque in modalità c e e fare un chilometro e due quasi in modalità c e secondo me i ragazzi veramente tanto poi se lo fate sul mare come ha fatto michele aumentano ancora di più i metri perché ovviamente le interferenze sono minori che qua perché comunque qua interferenze ne arrivano anche perché ci sono comunque ripetitori di telefoni e là in fondo adesso non lo vedete ma in fondo nell'angolo di là c'è comunque abbiamo visto anche come lui da solo quando ha raggiunto una distanza per cui il segnale è diventato molto debole ha fatto da solo il return to home che è anche questa è una cosa importante perché comunque andare a fare il return to home da solo è comunque una cosa che questa del return to home automatica che se funziona bene la cosa utile nel senso che quando perde il segnale torna questa è una prova anche che va fatta ai ragazzi comunque serve anche a questo questi range test perché comunque qua è successo a un chilometro e cento ma poteva perdere il segnale anche a 300 metri per una forte interferenza e fare il return to home quindi questo è importante scoprire anche se queste funzioni non sono solo scritte sulla carta ma se le fanno veramente i droni e non visualizza il landing perché quando si è nell'erba chimica questo problema lo vede bene se si è per dire sulla ghiaia sull'asfalto allora lo vede bene sulla terra ma nel vero dell'erba il landing fa fatica ancora a vederlo film e quindi adesso ragazzi lo faccio a ferrare poi tiriamo le nostre conclusioni ok ragazzi ecco il range test è finito direi che questo film x8 si è comportato davvero bene per comunque arrivare a 1200 metri in modalità cei ragazzi è tantissimo è veramente veramente tanto se per dire prendiamo che ne so anche un mavic air un paro tanafi in modalità cei più di 500 metri non ci arrivano e già ci arrivano a malapena ve lo garantisco questo in modalità cei ragazzi è arrivato a 1200 metri e nella prova di michele di addic to game ragazzi è arrivato quasi a 2000 metri a 1800 qualcosa probabilmente che c'erano meno interferenze ma qua in una zona dove comunque si campi ma ci sono interferenze radio ragazzi 1200 metri tantissime quindi direi che questo drone dal punto di vista del range test è veramente impressionante avete visto anche come funziona bene il retorno e tom automatico nel senso come ha perso la connessione è ritornato da solo ed è ritornato a dove è partito non ha beccato il landing o meglio non lo neanche fatto terrare ma non avrebbe beccato il landing perché c'è ancora il problema che il pad se nell'erba fa fatica a vederlo mentre se sulla terra sull'asfalto sulla ghiaia lo vede benissimo però va bene anche così ragazzi è tornato a dove è partito quando risolveranno il problema che nel verde non vede il landing veramente non ha più difetti sto drone cioè è incredibile anche perché ricordo che costa circa 370 euro quindi impressionante in tutto in continuo aggiornamento ragazzi rilasciano aggiornamenti su aggiornamenti ragazzi se volete acquistare un drone senza spendere tantissimo a prestazioni paura al momento sicuramente questo è il drone che fa per voi quindi ragazzi in questo video test in cui vi ho fatto vedere la prova di un range test per vedere che forza di connessione ha per volare sicuri se è un drone che vi dà sicurezza nel volare vi è piaciuto lasciate un grosso pollice su iscrivetevi al canale telegram offerte se non l'avete ancora fatto e se vi va e ovviamente iscrivetevi a questo canale youtube per non perdervi neanche un video un volo una recensione un test ciao